Benvenuto nel mio bunker Quindi a me interessa realizzare immagini Allora, queste sono tutte stampe di prova Perché prima di arrivare poi alla stampa definitiva Di un formato magari più grande Faccio delle stampe che sono 30-40 In un mondo fatto di immagini Mi scattano ormai immagini all'infinito Ti chiedi È giusto quello che vedo? Infatti la scelta di stampare le immagini che poi espongo Di stamparle su carte fine art Utilizzando inchiostri al pigmento È una scelta che vuole utilizzare e quindi prendere il meglio del digitale Perché il digitale comunque mi ha dato una grande libertà di espressione Però al tempo stesso riportare poi le immagini in forma analogica Perché io credo che un'immagine digitale in realtà non esiste Realizzare delle immagini per far vedere il prodotto Quindi l'elettrodomestico della Bosch In funzione, quindi durante l'utilizzo Però durante l'utilizzo concreto Io in quegli anni avevo fatto un cambiamento Nell'uso della luce Questa potrebbe essere la ricerca di motivi che ho fatto per una serie di foto Che poi ti farò vedere Che si chiama skylight Cioè sono finestre All'interno di un cielo alberato Quindi hai tutto verde intorno Al centro un'apertura Ma si può dire che lavoro molto con il contributo Una frase che mi è rimasta Che gli insegnanti di fotografia Ha detto Pensate alla fotografia come alla letteratura Nella letteratura c'è una grammatica Quindi abbiamo degli elementi In pratica sono soggetti per lo più fotografati in natura Colpiti da un raggio di luce Che io poi ho in fase di esposizione Ho sottoesposto E poi in post-produzione ho isolato completamente Quindi ho ridotto il contorno Che era già scuro di per sé All'uniero assoluto Qua ad esempio questa fa parte Dell'ultimo lavoro Questa era proprio la fusione tra L'architettura spontanea Ed il paesaggio E quindi il mare Questi due elementi Che mi perseguitano Li ho voluti fondere E l'intervento mio in post-produzione È stato Questo Questo Come dire Rompere E dare una trasparenza All'elemento architettonico Quanto sia un'immagine bidimensionale E una finestra Sul mondo Io credo che negli ultimi anni Il modo Più effettivo Per creare nuovi contatti di lavoro È stato Organizzare mostre Ecco Qui torniamo a quella domanda Che mi avevi fatto Perché Fai mostre È un È un ottimo mezzo Per Far vedere Il tuo lavoro E creare Contatti Sì Queste erano delle stampe Non grandissime Parliamo di un Un 40x50 Questo Catalogo Il catalogo Che ho stampato In occasione Della mia prima mostra Personale Una galleria A Monaco di Baviera Come esempio Concreto L'ultimo lavoro Quello degli orizzonti Dell'architettura Spontanea L'ho esposto La prima volta Non in una galleria Ma in uno studio Di architetti Di paesaggisti Che tra l'altro Sono i miei clienti Quindi C'era questa doppia valenza Esporre un lavoro Libero Negli spazi Di un cliente La fotografia È nata Per rappresentare Il ricordo Quindi la rappresentazione Il ricordo E oggi Paradossalmente La fotografia È la negazione Del ricordo Un giovane fotografo Che si avvicina A questo A questo tipo di lavoro Deve Secondo me Usare Forse un po' meno L'apparato fotografico E Dedicare più tempo Alla Alla lettura Alla 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 Alla